Ed ora parliamo di maltempo perché le perturbazioni non sembrano finire sul nostro territorio. La settimana prossima ne sono previste tre e tutte consecutive. Pioggia, pioggia e ancora pioggia. Anche per la prossima settimana infatti il meteo si annuncia problematico con una serie di perturbazioni che interesseranno anche il nostro territorio. Temperature alte fino a mercoledì e conseguente quota neve elevata. Considerato che i terreni sono impregnati d'acqua, resta da capire il reale impatto di questi nuovi peggioramenti. Sì, i peggioramenti che ci aspettano nella prossima settimana saranno ben tre. Il primo tra lunedì e martedì, un secondo abbastanza corposo mercoledì e probabilmente un altro sabato. Partendo da una situazione già problematica con i corsi d'acqua che hanno già dei livelli che non sono scarsi come la settimana scorsa, ci troveremo ad affrontare delle situazioni anche delicate. Bisogna essere preoccupati? Quando ci troviamo in corrispondenza di peggioramenti ripetuti in un periodo dell'anno come il mese di novembre con un fiume che già ha una portata che non è quella scarsa dell'estate, ogni peggioramento può risultare problematico. Quello di mercoledì potrebbe risultare particolarmente difficile. Dal mercoledì pomeriggio in poi allarme un po' rosso. Guardiamo mercoledì anche con la speranza che qualcosa possa cambiare avvicinandosi all'evento perché mancano ancora tre o quattro giorni e la previsione non è dettagliata.